Una città che perde abitanti ma che ora vedrà fondi resisi disponibili per opere infrastrutturali. C'è stata appunto una conferenza stampa su questo tema del sindaco di Campobasso Antonio Battista. Oltre 50 milioni di euro per la città di Campobasso, sindaco lei in conferenza stampa ha ricordato una serie di interventi ma soprattutto ha sottolineato la possibilità di un cambio di volto della città. Ma direi di sì, intanto servizi che si sono completati e altri servizi e opere che abbiamo messo all'impiede io ne voglio elencare una parte di questi 50-55 milioni di euro, la tangenziale di cui si aspetta l'ultimazione da almeno 40 anni l'ultimazione del sottopasso ferroviario di Giambattista Vigo che sono 2 milioni di euro, gli 11 milioni sulle scuole della città abbiamo già bandito il concorso di idee, contiamo di mettere la prima pietra entro quest'anno la scuola del quartiere CEP di Mascione per 1 milione e 400 mila euro, i 18 milioni di euro sulle periferie urbane un risultato eccezionale che andrà a condizionare molto in termini positivi la vita su un quartiere della città che va dal mercato coperto fino a Selva Piana e la chiusura del progetto dei fondi FESR con la formalizzazione dei 9 milioni e 500 mila euro che sono il finanziamento per l'attuazione di politiche europee che riguardano in modo particolare l'ambiente e la mobilità riguardano la collina Monforte, il castello Monforte, riguardano la cultura di questa città e l'ammodernamento anche informatico del nostro territorio. la videosorveglianza, quindi sono tutte azioni che andremo a realizzare da qui al 31 di dicembre del 2018. La domanda e la ripongo, c'è la preoccupazione di questo calo di demografia che riguarda, le stesse ha detto, tutta la regione ma c'è questa preoccupazione? La preoccupazione c'è, dobbiamo tentare di invertire il trend, in effetti dei risultati timidi ci sono, non si passa certamente rapidamente a 60 mila abitanti ma con le opere che realizziamo, il lavoro che cerchiamo di generare sul territorio intanto per il momento siamo risaliti sopra la quota dei 50 mila abitanti anche se di poco e contiamo di avere maggiori risultati. Però guardi, il dato anagrafico è una cartina di tornasole molto importante. Fare grandi servizi, fare grandi opere e vedere andare via i figli insomma significa aver fallito. Il nostro non è un fallimento perché abbiamo invertito il trend di poco ma dobbiamo lavorare affinché i nostri figli restino sul territorio o per essere molto aperto che i nostri figli vadano anche a vivere altrove a trovare fortuna altrove e che possano arrivare qui altri figli magari per studiare e magari per lavorare.